Siamo andati a vedere come succede nelle città più amate dello straghetto, perché la pregatura viene in Italia, ormai superiore, purtroppo, e si portano a casa. Roma punta la vita, quindi può iniziare il nostro tour. Ci serve una mappa della capitale e ci atteggiiamo. Siamo andati a vedere come succede nelle città più amate.